Puoi aggiustarlo? Sì! Insieme a Bob! Sì! Sì! Puoi farlo? Sì! Con lui! Scoop! Ma che rullo! Con trottola E! Lotti e Wendy lavorano per te! È gran divertimento! Insieme lavoriam! Con Bob e i suoi amici ci divertirem! Puoi aggiustarlo? Sì! Insieme a Bob! Sì! Sì! Puoi farlo? Sì! Con lui! Bisogna poi impegnarsi per fare un buon lavoro! Bob e i suoi amici farà anche la buon lavoro! Puoi aggiustarlo? Sì! Sì! Puoi farlo!